Giovanni, la tua esperienza con Accademia, con Ampi? La mia esperienza con Ampi sale dal 2012, con Giorgio sono solo due anni. Sembra già una vita che sono in questo gruppo, perché hai due anni, non sono tanti in fondo, non sono tanti in testo, ti sembra che, se non mi ricordavo adesso la data, Matteo, pensavo di essere quasi a dieci anni, mi sono in Ampi. L'esperienza è forte nel primo giorno, logicamente ci sono delle altre emozioni, perché le emozioni di quando ho fatto l'esame, adesso sono di esse, però c'è sempre un po' comunque quell'ansia quando ci sono le prove da fare, i prodotti da preparare, così sai come si va davanti a passare e a preparare un prodotto, è sempre un esame. Ma che cosa hai portato all'esame? Ti ricordi? Sì, avevo portato una torta al cioccolato con grassa al caffè. E ti ricordi qualche commento in particolare? No, mi ricordo anche i commenti positivi. Mi ricordo che, a parere mio, avevo fatto un buon esame. Era stato talmente emozionante che mi ricordo alla fine, perché all'inizio era tutta una cosa un po'... Una mia curiosità, sei più teso? Penso che sono quelle emozioni che da adulto, sono poche, perché ormai da bambino le emozioni ogni 15 giorni le puoi trovare, da adulto sono rari, però ti serve di tornare quasi da adulto dalle emozioni che hai. Una mia curiosità, eri più teso mentre facevi il tuo pezzo all'esame o quando sono venuti alla visita prima a vedere la pasticceria? Favendo il pezzo all'esame? Sì. E se non hai capito, non hai capito, non hai capito.